Un segmento che non c'ha dunque, un segmento che non c'hachesse ma che cosa stai. Ma che c'è quello che fa è tutto, ma che c'è quello che fa è tutto, in un'occasione, soggurante, in un'occasione della Boca di niżile per la chiara. ok perfetto oh e anche e così è tutti un po' che è un po' che è che è un po' un po' Questo Grazie a tutti.